Allora ce lo fai un saluto a tutti gli amici di Spezia TV Come no, sono venuto apposta da Vigevo, non ho superato il passo del Turchino Poi mi sono tuffato su per l'autostrada Apposta per venire qua da voi in questa bella valle L'unico posto dove non piove questa sera Quindi è un posto fortunato per fare un caro saluto agli amici di Spezia TV Amici di Spezia TV, ciao Grazie